Ci vediamo a Cuneo, Piacenza, Cortona, Novara, Padua e Firenze. Trovate tutte le informazioni sotto. Ciao a tutti, vi devo raccontare che cosa è successo. Il mio video è finito in tribunale, sono passati dei mesi e finalmente ora ve ne posso parlare. Cerco di farlo in modo più pacato possibile, nonostante questa storia mi abbia danneggiato, nel senso che io negli ultimi mesi avevo dei video pronti, proprio pronti, che non ho pubblicato per vari motivi. Ho dovuto rifiutare delle partecipazioni a degli eventi, a delle live per questo motivo. pensavo ma va bene così, ok, penso aver fatto la cosa giusta e poi recupero. Cioè banalmente io ho un video pronto che potrei pubblicare oggi, domani e lo farò, è con Piero Genovesi che parla della scienza in tribunale. Non l'avevo fatto apposta, non pensavo potesse succedere al tempo quando ho registrato quel video e non l'ho fatto uscire per ovvi motivi anche di rispetto nei confronti degli avvocati e dei giudici che stavano intanto seguendo, diciamo, il mio processo, motivo per cui appunto ho evitato di farlo, cosa che ora non ha più senso e posso finalmente pubblicarlo. Avevo anche dei video che riguardavano le questioni della paleoastronautica, no? Cioè la storia del intervento alieno, degli alieni che modificano geneticamente gli esseri umani. Ho aspettato nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, tornerò a parlare di questi argomenti. Io mi ero proprio fermato, ok? Quindi questa è la premessa. Ma di che cosa stiamo parlando? Bene, partiamo dall'inizio. Quindi un passo alla volta. All'inizio di quest'anno io mi ero imbattuto in un video. Un video molto particolare che si trova su un canale su YouTube. Questo canale si chiama YouStory. Il canale è questo, vedete, fa dei documentari un po' particolari, pseudoscientifici in cui si parla un po' di tutto, ma soprattutto di alieni, di interventi alieni, tecnologie aliene, va bene. A un certo punto ecco che vedo questo video. Questo è il video più visto in assoluto sul loro canale. In questo momento ha 636.000 visualizzazioni ed è un documentario che, oltre a parlare dei miei temi, fa un'altra cosa veramente particolare. Cioè intervista un professore universitario che quindi tende in parte ad avvalorare questa narrazione che viene fatta all'interno di questo canale. e nel video stesso questa narrazione di un eventuale intervento alieno viene portata almeno tra le righe. Poi su questa cosa ci arriviamo perché è fondamentale per la nostra storia. Va bene, in questo video vengono dette un sacco di cose che sono in larga parte opinioni, concetti, ipotesi particolari che non sono fondate. Non viene citato nessun articolo scientifico all'interno di questo video. Che sia chiaro, questa cosa è importante anche per dopo. e vengono dette delle cose per quanto possibile anche assurde su come funziona il nostro cervello, su come funziona il bipedismo, su come funziona la neotenia e così via. Ok? È un video che, da un punto di vista prettamente scientifico, fa acqua da tutte le parti. Qual è la questione? Che c'è un professore associato dell'Università di Catania, Marco Ragusa, che tiene dei corsi di biologia e di genetica, che tende a valorare questa cosa qui. Bene, per me questa cosa è grave. Grave, è un problema. Così decido di fare un video di debunking. Video di debunking in cui prendo questo video, lo analizzo, spiego i vari passaggi, perché sono problematici e quindi faccio uscire questo video il 5 marzo. Potete ancora vederlo, questo video. Trovate il link sotto. Se non l'avete visto, vedetelo. All'inizio del video dico un'altra cosa, che per me è un fatto. Su questo poi si esprime anche una giudice, lo vediamo dopo. Ed è che, nonostante il professore, non espliciti mai, mai, non lo fa mai, la parola, la costare, intervento alieno, modifiche genetiche fatte dagli alieni, c'è una continua allusione a questo fatto. Questo fatto avviene all'interno del video, ma avviene anche dal contesto in cui i suoi vari interventi vengono fatti. Lui, per esempio, viene invitato da vari personaggi che invece ne parlano esplicitamente, oppure su canali come gli Ustory, che fanno della narrazione dell'intervento alieno una parte importante. Pensate a un certo punto, in un momento del video compare per video questa slide che qualcuno deve aver montato all'interno del video. Il sole ci svela incredibili mondi alieni con tanto di cervello con le galassie all'interno. Capite? Questo è il contesto. Non viene mai esplicitato, ma il contesto contribuisce molto a farne una narrazione di questo tipo, tanto che la maggior parte dei commenti sono su quello. Perché sto specificando tutto questo? Perché è importante, dai, guardarsi in faccia e non prendersi in giro. Cosa che è stata fatta, a mio avviso, nei commenti più volte. E adesso ve lo dimostro apertamente, aggiungendo altra carne sul fuoco. Guardate, si può trovare online quest'altro video. Questo video è disponibile in questo momento online. Metto il link sotto che si trova nel canale Spazio Tesla Channel che ha in tutto 6.500 visualizzazioni. Mostra il professor Ragusa che sta tenendo una conferenza. Conferenza all'interno dell'evento Figli delle Stelle nel 2018. Va bene. Questo intervento, eventualmente, guardatevelo. E c'è un passaggio che per me è interessantissimo, giusto per farvi capire. Questa questione del contesto e del non prendersi in giro. Ok, il professore ha appena parlato di progetto Homo Sapiens, riferendosi all'evoluzione umana, di un'ingegneria genetica, cerco di assai testuale, che va oltre quella che noi siamo in grado di fare. E guardate cosa succede. Perché, secondo me, questa parte è veramente fondamentale. Ecco, per davanti sentiamo subito. Alza la voce tutto in quale. È il momento delle domande. È il momento fondamentale che c'è molto chiaro che non era facile. Però dopo la sua posizione è molto difficile non propendere per l'intervento in sé, ma devo dire la verità. Almeno per chi non è un genetista come me, ascoltandolo ci sono molte domande che restano troppo senza risposta e prendono la certa parte. Non dobbiamo trovare la scienza in sé. La mia curiosità è questa, che forse dimostra la miglioranza della materia. Che risposta si dà la scienza per il passaggio dal mondo RNA alla cellula così come la conosciamo oggi? Perché forse mi potrebbero trovare delle risposte. Allora, la spiegazione è che da manuale, diciamo così. Allora, cosa è successo? È stata fatta una domanda sul mondo RNA, ma soprattutto prima è stata fatta una premessa. E dal suo intervento, professore, è chiaro che l'intervento alieno è la spiegazione ultima che spiega l'evoluzione umana. E lui sorride. E lui non dice No, ragazzi, ma che dite? Da quello che ho detto io, ma figuriamoci l'intervento alieno, che è quello che dovrebbe fare una persona seria, per quanto mi riguarda, che parla di evoluzione umana. Ok? Se io vado a tenere una conferenza, come spesso faccio, e una persona, da quello che ho detto io, e vince qualcosa, che è falsa, che io non credo, dico, no, fermo, guarda che hai capito male. Prima di rispondere alla domanda che mi hai fatto sul mondo RNA, ti dico che hai capito male. Invece no. C'è un bel sorrisone, perché alla fine quella è la storia. Questo è il contesto. Ok? Dai, non prendiamoci in giro. Andiamo avanti con la storia. A metà marzo, mi arriva la prima diffida. Diffida dall'avvocato di Marco Ragusa, in cui, tra le varie cose, mi chiede di togliere il video. Ovviamente, alludendo a un'eventuale diffamazione. Ok? Questa diffida è molto particolare, perché ci sono scritte delle cose che sono dimostrabilmente false, e alcune anche un po' strane. Adesso vi leggo una frase, per farvi capire. riferendosi al video di YouStory, che io ho reactato, ho fatto una reaction, dice, avente a oggetto un'intervista al mio cliente inerente a uno studio scientifico pubblicato dal mio assistito. Questa, per esempio, è una frase. Ah, mi raccomando, questa diffida è stata poi firmata dal professor Marco Ragusa, quindi non credo che non possa sapere cosa ci fosse scritto. E questa, per esempio, è una frase che non è vera. Non è vera. Non c'è nessuno studio scientifico avente a che fare con gli argomenti trattati in quel video. Questo è il video di YouStory, non è citato nessun articolo scientifico. Nessuno. Non c'è nessun articolo scientifico citato. Non è citato nulla neanche in copertina. Non c'è un articolo scientifico riguardante specificatamente questi temi del professor Ragusa. Non solo. Nel dubbio sono anche andato a vedermi su Google Scholar se ci sono degli articoli pubblicati da Marco Ragusa. Ho fatto tutte le ricerche che è possibile negli ultimi anni Marco Ragusa Human Evolution Marco Ragusa Domestication Marco Ragusa tantissime altre cose non esce nulla su questi temi. Gli unici due articoli che parlano di tematiche evolutive questo e questo uno è sull'evoluzione del cancro colon rettale e l'altro è un modellino in silico un esperimento in silico ma che nulla ha a che fare con la domesticazione umana. Li ho guardati non c'è scritto niente. Non solo fan fact non sono neanche tecnicamente ancora stati pubblicati veramente gli unici due articoli che parlano di evoluzione perché sono stati pre-pubblicati cioè sono pre-print sono stati messi in degli archivi non ancora pubblicati in riviste il che è parzialmente anche un po' strano perché sono articoli del 2023 ormai è piassato perlopiù un anno o di più e non sono ancora stati pubblicati però a volte capita però sono pre-print non sono neanche articoli veri e propri o meglio tecnicamente non sono articoli che hanno passato la peer review cosa molto importante all'interno dell'ambito scientifico quindi che che ne dica la diffida non c'è nessun articolo scientifico ok? questa cosa è importante bene cosa faccio io? faccio semplicemente due cose non rispondo non tolgo il video perché figuriamoci se tolgo il video a maggior ragione dopo aver ricevuto una diffida di questo genere ho fatto anche un'altra cosa ho letto tutta la diffida commentandola anche ai miei abbonati quindi l'ho fatto è stato anche divertente se vi abbonate al canale potete anche ascoltare la mia lettura della diffida con tutti i vari commenti anche alle parti ancora più strane per quanto mi riguarda quindi questa è un po' la storia in quel video dico anche due cose ma magari vorrai essere quel relato altro che ha maggior ragione per dimostrare un po' come sto facendo anche ora ma un po' perché volevo farlo in tribunale che io avevo ragione altro che diffida per diffamazione le cose che ho detto sono abbastanza inopinabili su appunto la veridicità almeno scientifica degli argomenti trattati non solo mi ero anche immaginato tipo le scene di portare come testimoni dei miei amici che si occupano di ricerca in ambito di evoluzione umana per però forse probabilmente ho visto troppi film americani comunque una cosa certa ecco sicuramente io sono fatto che una roba del genere non mi tange anzi al massimo mi gasa a questo punto arriva la seconda di Fida altro avvocato altra corsa si tratta dell'avvocato di Ustory che mi dice togli il video intero tre giorni perché avresti violato il copyright se non lo togli ti succedono delle cose terribili per esempio potresti ricevere uno strike per il copyright o perfino il sequestro del video al che io dico va bene ok figuratevi che simpatia posso avere per un canale che fa video di pseudoscientifici e che reagisce in questo modo per una reaction al che ne parlo col mio avvocato mi faccio spiegare qual è lo scenario peggiore anche di andare eventualmente a due processi neanche uno ci sto posso accettarlo e quindi non rispondo non faccio niente il 29 maggio mi arriva una mail da youtube che mi dice che ha rifiutato una richiesta di rimuovere un mio video per violazione di copyright e io dico ok ma come mai a quanto pare l'avvocato lo stesso il secondo avvocato aveva fatto richiesta appunto di far togliere il mio video e youtube ha detto no guardate che non c'è non c'è violazione di copyright però io me ne lavo le mani e andate in tribunale se proprio volete e capite no è andata così intorno a metà giugno mi arriva questa che è anche verde quindi in teoria fa più paura no e la faccio breve perché ci sono dei paroloni tipo fumus boni yuri e periculum immora ex veglielmus in cui scopro che era stata fatta una richiesta d'urgenza ad un giudice perché venisse tolto il mio video senza che io lo sapessi in audita altera parte il giudice aveva rifiutato ok e quindi mi diceva no io voglio audire l'altra parte scusatemi in latino e quindi voleva che io presentassi il diciamo ricorso all'eventualità di far togliere il mio video non solo la giudice che a quanto pare non aveva tutta questa urgenza ha chiesto a tutte le parti di esprimersi a tutte e tre e vedete come a tutte e tre è certo perché era stato chiamato diciamo in causa anche Google Ireland quindi dobbiamo difenderci io e Google Ireland scusate questa cosa mi fa troppo ridere la giudice fissa l'udienza per il 7 luglio e io e i miei avvocati che sono due qui di Bassano prepariamo la risposta e voi direte ok ma risposta a cosa a la spiegazione del perché io avrei preso quel video e cosa ne avrei fatto e perché avrei violato il copyright e qua c'è una parte che fa ridere se non fosse parzialmente almeno io l'ho ritenuta in parte offensiva leggendola perché viene argomentato alla giudice che io avrei fatto questa reaction non per motivi diciamo alti come magari poteva essere sapete no una reaction a un video pseudo scientifico come critica scientifica ma per me erano i motivi economici l'avrei fatto soprattutto perché e qua c'è una lunga argomentazione su questo il mio canale stava andando male ok in particolare nel mese di febbraio e questo video per me era fondamentale per risollevare le sorti del mio canale e che questo avrebbe azzoppato il loro questo era questo modo l'argomentazione per portare l'argomentazione a questa cosa venivano anche strapolate frasi da miei video vecchi in cui spiegavo come funziona youtube in cui spiegavo l'andamento degli algoritmi e così via e mi ha fatto ridere perché io alla fine come semplice risposta ho preso il grafico l'ho mandato nella risposta è stato incorporato in cui semplicemente facciamo vedere che all'interno di un anno ok il picco di views che può fare un video come quello è marginale è trascurabile all'interno di tutto un mio anno di pubblicazioni però mi ha fatto mi ha fatto ridere adesso al tempo no quindi io e i miei avvocati lavoriamo a una risposta e non solo dobbiamo anche trovare un terzo avvocato che si presenti in presenza a Catania per appunto portare le nostre tesi questo è un po' il concetto perché l'udienza avviene a Catania ad ogni modo io speravo che il 7 luglio tutto finisse anche soltanto per potervi raccontare le cose e pubblicare il video con Genovese per poter parlare finalmente di nuovo di alieni su questo canale ma ops è successo qualcosa di strano non ho capito bene cosa la giudice in ultima ordinanza ha detto semplicemente che la notifica a Google è arrivata tardivamente è un problema dell'avvocato è un problema delle poste non lo so io non lo so fatto sta che Google non ha affatto in tempo a preparare una risposta adeguata non è colpa sua e quindi si rimanda all'11 settembre qui ovviamente sono stato sulle spine tutta l'estate ma quindi Google cosa farà si costituirà oppure no è stata una parte veramente molto emozionata che alla fine lo fa con i suoi 6 avvocati io ne avevo soltanto 2 e nella sua risposta dice che io ho sostanzialmente ragione nel merito però lui è soltanto il provider in parte se ne lava le mani che decida la giudice e poi Google in caso toglierà il video oppure lo lascerà molto semplicemente passano 13 giorni ed ecco che ieri finalmente la giudice si esprime e mi dà ragione su tutta la linea ho ragione da praticamente ogni punto di vista non solo e questa è forse la parte anche più divertente a questo punto si esprime anche nel merito dei contenuti vi faccio vi leggo un passaggio dell'ordinanza la critica svolta dal Moro Mauretto nel proprio video si inserisce nell'ambito del dibattito scientifico sull'origine e sull'evoluzione della specie umana più precisamente tale critica trae occasione da alcune teorie speculative che si intuiscono dal video pubblicato sui history dalla resistente teorie che parrebbero suggerire un intervento alieno nello sviluppo della specie Homo Sapiens a fronte di tali teorie speculative il contributo che la resistente ha ritenuto di offrire sul tema è stato perfettamente libero e legittimo onde ribadire alcuni approdi della ricerca scientifica in materia rispetto a tesi piuttosto bizzarre ora abbiamo perfino una giudice della Repubblica Italiana che afferma che è abbastanza intuibile che quelle del professor Marco Ragusa sono delle allusioni alieni oltre a essere teorie bizzarre ragazzi io ho amato questo passaggio la giudice quindi decide di far coprire le spese legali sia le mie che quelle di Google dalla controparte e quindi si può dire ho vinto su tutta la linea da ogni punto di vista il video rimane ne sono molto contento potete recuperarlo anche adesso se non l'avete ancora fatto potete condividerlo io sono contento sono tranquillo che quello che ho fatto andava bene e posso eventualmente anche rifarlo sono contento di aver vissuto questa avventura ho avuto per mesi una bella storia da raccontare l'ho fatto a destra e a manca non solo ho anche imparato un bel po' di cose sul diritto privato sul processo e poi sono contento che i miei avvocati vengano pagati sono veramente molto bravi sono stati bravissimi non di tasca mia concludendo quando ho parlato di questo argomento con persone che hanno avuto storie simili che hanno avuto a che fare con i tribunali con dei processi tutte quante più o meno mi hanno raccontato la stessa storia che hanno vissuto tutto questo con grande preoccupazioni stress spesso non dormendo la notte posso dire che per me non è stato così che ho dormito proprio di gusto anzi per certi versi l'avete anche intuito io sono quasi dispiaciuto di non essere andato a processo per entrambe le questioni io volevo che questa cosa si dipanasse bene in modo chiaro dannazione lo sanno bene i miei avvocati che mi hanno anche preso in giro da questo punto di vista perché loro no no mi raccomando stai attento è meglio non andare a processo è sempre meglio evitare ma io no io voglio dimostrare che ho ragione la verità è duplice da una parte io non posso proprio sopportare l'idea che mi possa essere chiesto di togliere un video che riguarda appunto un dibattito su questioni scientifiche è inconcepibile a maggior ragione si viene fatta da un professore universitario ma poi soprattutto c'è l'altro aspetto e cioè che io in questi mesi ho proprio realizzato un fatto mi sento abbastanza tranquillo di quella questione perché so che ho una community che può capire perché faccio le cose che può condividere dei miei valori e eventualmente nel contesto giusto eventualmente anche supportarmi tenere conto di questo fatto per me è stato veramente fondamentale e non potete neanche capire quanto questo mi renda felice perché mi permette sostanzialmente di essere libero di fare quello che io penso sia meglio nel momento senza dover pensare a fatti contingenti senza pensare a eventuali limiti io di questa cosa vi sono profondamente grato grazie grazie a tutti quanti ciao a tutti